Ok, il prossimo incontro è un incontro di coppia I primi ragazzi li avete già visti prima, direttamente da Dublino Loro sono i DOO Loro sono i DOO Loro sono i DOO Taglia BUE, taglia le gomme dalla macchina I loro avversari sono il tag team più promettente d'Italia Ci sono già affrontati uno contro l'altro Questo pomeriggio Diamo un caso di benvenuto Ad Akira Gravity E WONDER! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.